Ciao ragazzi, scusate il video in verticale, so che la maggior parte di voi odia i video in verticale, però è un video all'ultimo momento. Allora, sono qua per dire che da domani, mercoledì 9 dicembre, il mio canale è in pausa. È in pausa, proprio pausa, non pubblicherò niente, tranne che i video assaggi. Il 12 e il 19 di dicembre, comunque al sabato, ci sono i due video assaggi. Il canale sarà in pausa fino al primo di gennaio, perché poi il 2 tornerà a essere di nuovo online con la prima puntata di Club Rotation Dance Chart. Speriamo che vada tutto bene. E quindi sono in pausa ragazzi. Da domani fino al primo di gennaio il canale è in pausa, tranne il 12 e il 19 che sono sabati, che ci sono appunto i video assaggi. Magari il 12 e il 19 farò gli ultimi due live su Lion Channel Official Vivo Piros, perché lo voglio mettere in pausa. Ultimamente sto lavorando tantissimo e ho poco tempo, come ho sempre detto, di entrare nelle live, commentare, vedere i vostri canali. Sono veramente pieno fino qua alla testa con il lavoro. Ripeto, io non sono youtuber, non voglio neanche esserlo. Sono qua per portare i miei contenuti. Perché so che la maggior parte di voi vuole nuovi contenuti per il mio canale, quindi abbiate pazienza. Quindi colgo già l'occasione a tutti voi di passare innanzitutto tante belle feste con la famiglia. Si spera, chi può passare le feste di Natale con la famiglia. Quindi un buon Natale e un felice 2021. Molto proprio mi mente, ragazzi, se mi volete vedere ancora o a Natale o all'ultimo dell'anno, mi vedrete in live, sono le sprante, nella parte della regia. Perché ogni tanto si collegano con la mia camera. E poi, ve lo dico solo a voi, da gennaio parte il grande pilo su Lion Channel Official. Questa è una chicca, è una chicca, finalmente inizia il mio reality. Ragazzi, quindi vi auguro buone feste, vi voglio bene. Che dire, seguitemi magari anche nel mio Instagram, 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 basso live, finita gennaio. Ricordatevi che approderò anche su Twitch con le live, quindi ce la larghiamo, ce la larghiamo. Quindi ricapitoliamo da domani fino al primo gennaio. Il canale è in pausa, tranne il 12 e il 19 di dicembre, con le ultime due puntate, perché saranno le due ultime puntate di video assaggi. Così possiamo concludere l'anno in bellezza e i video assaggi riprenderanno il 9 di gennaio. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona immacolata, vi do un bacione e un abbraccione. Ciao!